Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi, ciao a tutti i fan dell'ortodio, ci troviamo davanti al mucchio del compost di mio padre come il mio che avete già visto nel filmato dove parlavo della compostiera e dei rifiuti sono venuto da questo di mio padre perché ha più anni e quindi ha più roba perché ecco vedete il compost e qua ci buttiamo la roba della cucina, bucce d'arancio, cenere, erba tagliata, di tutto di più quindi è un modo per non inquinare ma a che serve il compost? il compost è un ottimo substrato, è un terriccio fantastico io adesso devo partire con le nuove piantine, con i cetrioli, con le zucchine, con le melanzane e quindi mi serve del buon terriccio per i vasetti, un terriccio molto fine, molto fertile e il compost che ti fai in casa è meglio di qualsiasi terriccio che puoi andare a comprare non è un concime, lo puoi usare come concime ma non è un concime, è un substrato perché un concime tu non lo puoi usare puro la cacca di mucca se la usi pura, le piante non crescono il compost lo puoi usare puro, quindi è un substrato che fa anche da concime, volendo un ottimo concime ma io in questo caso nei vasetti lo userò puro e non solo, ho bisogno di un terriccio, no, non puro puro lo mischierò con la perlite e così almeno permetterà alla terra di non compattarsi manterrà più sia l'acqua sia l'aria e per le piantine appena nate uso la perlite e mi serve il terriccio buono quindi vediamo subito come si può fare dal compost abbiamo bisogno della nostra forcina un secchio e un setaccio andiamo a scoprire il mucchio del compost in fondo fino a trovare la parte buona che è questa che è questa parte qua guardate che bella la setacciamo una cosa molto semplice ecco qui che una volta setacciato ci abbiamo il nostro terriccio perfetto per fare i vasetti il miglior terriccio se lo vai a comprare non lo troverai così buono ciao belli il filmato è finito ciao